Stamane c'è stata una lunga riunione della Delegazione di Forza Italia con il Presidente del nostro partito e anche il nostro collega europarlamentare Silvio Berlusconi dove abbiamo affrontato tutti i temi legati alla politica europea abbiamo confermato il nostro ruolo da protagonisti nella famiglia del Partito Popolare Europeo la voglia di avere un centrodestra sempre più europeista che si rifaccia ai valori della nostra famiglia politica